Dori. Sei nata nel 68, un anno ideale, e mi sembrò in autunno irreale che in Bolivia un simbolo di libertà veniva stroncato in nome della povertà. Da medico aveva studiato, ma da soldato aveva cominciato la sua rivoluzione a favore dei contadini, in opposizione di chi ha il potere li condannava ad un lavoro massacrante e li sfruttava. Ora Che Guevara è un simbolo di chi vuol far prevalere la giustizia contro il potere, e se ora non vado più alle manifestazioni è perché a capo dei gruppi non ci sono più filosofi, ma c'altroni, che vogliono i giovani portare alla conquista del capitale, facendoli diventare dei teppisti che sfasciano vetrine in nome della giustizia, e questo caos non avrà mai fine.